Domenica 2 agosto il mondo cattolico vivrà una grande festa per la celebrazione del perdono di Assisi, l'indulgenza plenaria della porziuncola concessa da Papa Onorio III a San Francesco il 2 agosto del 1216 per tutti i fedeli. Una festa particolarmente amata e vissuta anche dalla diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro, sia per la grande presenza francescana nel proprio territorio, che per la testimonianza diretta di Fra Benedetto d'Arezzo e Fra Rainiero di Mariano d'Arezzo, frati eretini del convento della Basilica di San Francesco. La loro testimonianza costituì un importante elemento per la determinazione del cosiddetto diploma di Teobaldo, il principale documento storico relativo alla concessione di tale indulgenza redatto dal frate minore e vescovo di Assisi Teobaldo ed emanato dalla curia vescovile Assisiate il 10 agosto del 1310. Il vescovo Riccardo presiderà la messa alle 11 al Santuario della Verna. La celebrazione sarà trasmessa in diretta da TSD.